Salve a tutti e bentornati ad una nuova puntata di Curiosità Viventi. Quest'oggi vi parlo di un insetto davvero rumoroso. E a fine video una novità, non perdetelo. Pensate che gli animali che producono più rumore sono quelli di grossa taglia? E invece no, l'animale che produce più rumore assurdante in relazione alle proprie dimensioni è un minuscolo insetto acquatico che utilizza uno strumento davvero particolare. L'animale più rumoroso della Terra in proporzione alle proprie dimensioni è un coleotero d'acqua diffuso in tutta Europa, il Micronecta Scolzi, anche detto barcaiolo. Strofinando il pene contro l'addome in un processo chiamato stridulazione, il piccoletto riesce a provocare un suono di 92,2 decibel, il tutto utilizzando una porzione di corpo di appena 50 micrometri di diametro. I ricercatori ipotizzano che il suono possa costituire parte del rituale di accoppiamento. Per attrarre la parte, neri maschi competono tra loro cercando di produrre il rumore più intenso. Altri animali assordanti sono quelli di grossa taglia come gli elefanti che producono un suono di 117 decibel e alcune balene che producono un suono di 188 decibel. Ma quello più rumoroso in relazione alle proprie dimensioni resta l'insetto barcaiolo. Come vi avevo anticipato, arriva la sorpresa. Da oggi a fine video mando una curiosità virale che riguarda animali o natura in generale. Dopo il vestito blu e nero e il vestito bianco e oro, una foto molto virale, è stata quella di un picchio in volo con una dondola. Purtroppo non c'è nulla di divertente. In questo volo affaticato si sta consumando il dramma di un picchio verde attaccato da un mustelide e probabilmente una dondola affamata. Si tratta di una lotta per la sopravvivenza tra il picchio e la dondola. Una volta arrivate a terra e il picchio fortunatamente è riuscito a liberarsi e a volare via. Concludo con una domanda. Vi piace questa nuova idea di mandare a fine video una curiosità virale dal mondo animale? Questa è stata la quinticesima puntata di curiosità viventi. Quando ho iniziato non pensavo di arrivare fin qui e di questo ringrazio tutti quelli che mi seguono. Vi ricordo che potete seguirmi anche sulla pagina Facebook e sul blog di Entomologando. Trovate i link in descrizione. Vi ricordo gli appuntamenti che sono ogni mercoledì sul blog con un nuovo post. E un martedì sì e un martedì no qui sul canale con un nuovo video. Un saluto da Ludovico Catalli e alla prossima.